Benvenuti a noi chiesa al nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari iniziamo questa puntata con un'ampia pagina dedicata alle celebrazioni legate all'anno della misericordia e in particolare il nostro primo servizio è dedicato al giubileo delle comunità cattoliche di rito orientale che è stato celebrato nella cattedrale di nostra signora dell'orto a Chiavari in cattedrale si sono radunati fedeli provenienti dalle comunità di Chiavari di Genova e di Savona circa 200 persone in tutto la divina liturgia è stata presieduta dal visitatore apostolico delle comunità ucraine in Italia e in Spagna monsignor Dionisio Lakovic vediamo insieme il nostro servizio i cattolici di rito bizantino della Liguria hanno celebrato il giubileo con il passaggio attraverso la porta santa della cattedrale di nostra signora dell'orto come segno di gratitudine per il decennale della presenza della comunità cattolica ucraina a Chiavari era la pasqua del 2006 quando venne celebrata la prima divina liturgia nella chiesetta delle clarisse in via entella un segno profondo di comunione rimarcato anche da monsignor alberto tanasini che ha pronunciato un affettuoso saluto all'inizio della celebrazione e messo in luce dal vescovo Dionisio Lakovic visitatore apostolico per l'Italia e la Spagna che ha presieduto la liturgia ripetendo più volte il suo grazie agli italiani che con generosità hanno partecipato alla colletta per il popolo ucraino voluta da papa francesco in cattedrale a Chiavari si sono radunate circa 200 persone provenienti dalle comunità di Chiavari Genova e Savona molti in abiti tradizionali al rito ha preso parte anche il console onorario per l'ucraina è stata l'occasione per una preghiera particolare per la pace nel paese una situazione vissuta con grande fede penso che è un'opportunità di approfondire la sua propria fede come i giudei hanno approfondito un po' la sua fede con tutti questi lager e così via così noi abbiamo l'opportunità anche ieri questa domanda si è stata se Dio è buono come c'è la guerra perché la guerra allora abbiamo risposto che Dio sta presente con noi come quello sofferente con quello che parte dalla croce come quello che ci guida in questo momento tanto doloroso allora siamo abbiamo un'opportunità di vivere una unione più profonda con proprio Cristo sofferente e sempre nella cattedrale di nostra signora dell'orto a Chiavari è stato celebrato il giubileo della curia erano presenti in particolare i dipendenti e i direttori degli uffici di curia della nostra diocesi il vescovo ha presieduto la santa messa che ha preso il via con il passaggio attraverso la porta santa nell'omelia monsignor alberto tanasini ha parlato dei propositi giusti e santi che devono guidare il cammino degli uomini di Dio non è facile ha detto rispondere a queste domande cosa ci rende accoglienti cosa ci rende capaci di comunione cosa fa di noi una testimonianza che dà gioia e slancio alla nostra chiesa il pastore della diocesi ha sottolineato alcune risposte seguendo il Vangelo la fedeltà a Dio la capacità di unificare il proprio essere senza compromessi avere una fede limpida e genuina celebriamo questo giubileo ha poi concluso perché desideriamo che queste risposte crescano nel nostro cuore e alimentino il nostro servizio e la nostra presenza significativa e umile all'interno della chiesa al santuario mariano di nostra signora della guardia sulle colline di genova si è svolto l'annuale pellegrinaggio del mondo del lavoro presieduto dal cardinale angelo bagnasco nell'anno santo della misericordia le società operaie cattoliche della nostra regione hanno celebrato proprio in questa occasione il loro giubileo dall'arcivescovo di genova in occasione di questa celebrazione si è elevato un forte monito alle istituzioni perché promuovano una forte unità di intenti per cercare di risollevare le sorti di questa liguria che ha detto è decisamente malata sentiamo genova non è morta né morente ma molto malata questo sì e ha bisogno di un miracolo queste le parole del cardinale angelo bagnasco arcivescovo di genova nel pellegrinaggio annuale del mondo del lavoro al santuario di nostra signora della guardia una realtà quella ligure che riflette quella del paese nonostante aggiunto il porporato le dichiarazioni ottimistiche la disoccupazione cresce specie fra i giovani mentre gli adulti che perdono la propria occupazione trovano molteplici difficoltà nella ricerca di un nuovo impiego il che genera effetti a catena come l'incremento del numero di persone che vivono in condizioni di povertà e per contro una sempre maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi di cui l'invito ad una unità di intenti e ad una sempre più realistica valorizzazione delle risorse soltanto se si è uniti con una sola voce con una progettazione unica nel mondo del lavoro genova può farsi sentire e valere come giusto per non essere spogliata della sui delle sue attività industriali e per incrementare la sua produttività a partire dal porto che da un punto di vista proprio naturalistico qui non c'è un programma né politico né ideologico la posizione logistica di genova è il porto dell'italia dell'europa il porto del mediterraneo questa posizione è incontestabile ma deve essere perseguita da tutti la chiesa ha aggiunto il cardinale bagnasco in questa situazione sta facendo la sua parte offrendo aiuto materiale a chi si trova in difficoltà un'attività che non è un problema ma un privilegio ha spiegato in questo senso è importante anche il ruolo delle società operaie cattoliche siamo molto vicini alla cattedrale vediamo che le richieste di aiuto si moltiplicano purtroppo diciamo che si riesce a soddisfare appena appena i più urgenti l'aiuto concreto deve venire dalla politica dall'istituzione anche il suo eminenza lo ha detto nell'omelia sì sì le istituzioni anche qui sono vicine anche il comune di chiaveri devo dire anche nei nostri confronti abbiamo fatto richieste e ci viene incontro però anche le istituzioni hanno dei limiti e purtroppo diciamo che è brutto dirlo ma è il cane che si morde la coda no quindi si cerca di tamponare le situazioni più urgenti sono 65 i sodalizi in Liguria per un totale di oltre 7 mila soci molte di loro hanno solo un punto di aggregazione altre fanno servizi che le istituzioni me lo perdonino a volte mancano abbiamo molte società che fanno servizio di mensa per le persone più deboli molte che fanno servizio di centro d'ascolto molte che fanno altre attività due ancora in Liguria che hanno le bande che stanno suonando che si sentiranno questo sottofondo che sono Ponte Decimo e Bolzaneto ecco il cardinale ha presentato dei dati abbastanza allarmanti per quanto riguarda il lavoro ha parlato anche di ludopatia voi sul territorio tramite le SOC sentite queste cose in che modo secondo lei si può si può aiutare purtroppo devo dire di sì perché anche da noi bussano alla porta casi che poi noi appoggiamo i centri vicariali di ascolto e stiamo attenti in facendo anche delle conferenze su quello che è il gioco d'azzardo eccetera cerchiamo di dare un messaggio propositivo che allontani la gente dal gioco l'ho detto non so se avete sentito all'apparizione del cardinale siamo in un momento che Genova e la Liguria hanno bisogno di meno parole più fatti. Una settantina di fedeli della diocesi di Chiavari hanno preso parte al pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora della Misericordia a Savona per venerare la patrona nazionale di tutte le confraternite in occasione dell'anno santo della misericordia. Prima della Santa Messa i confratelli hanno attraversato la porta santa del santuario portando processionalmente i crocifissi della confraternita della Santissima Trinità di Lavagna e della confraternita di Nostra Signora del Carmelo di Sestri Levante. I pellegrini sono stati accolti dal priorato di Savona che ha raccontato la storia del santuario l'apparizione di Maria ad Antonio Botta il 18 marzo del 1536 durante la quale la Vergine per la prima e unica volta fece esplicito riferimento alle opere di carità delle confraternite. Il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi è proseguito poi nel pomeriggio a Savona con la visita all'oratorio di Santa Maria di Castello, alla cappella Sistina e la vicina cattedrale e agli appartamenti di Pio VII che a Savona venne tenuto prigioniero da Napoleone per tre anni. A fare da Cicerone d'eccezione a quest'ultimo momento il vescovo di Savona, Monsignor Vittorio Lupi. Anche nella crisi occorre vivere un sentimento di solidarietà reciproca anche concreta e la misericordia prendosi proprio a chi sta peggio. E' questo il messaggio che ha voluto lasciare Monsignor Alberto Tanasini ai dipendenti e ai titolari dell'ESPA, azienda di Moconesi, leader nel settore dei trasformatori elettrici. In questa occasione il vescovo ha voluto commentare la liturgia del giorno, invitando dunque ad un forte sentimento di solidarietà. Troppe volte il Vangelo è stato snaturato dagli stessi cristiani, troppe volte è stato adattato facendo diminuire la sua stessa forza. Monsignor Alberto Tanasini ha proposto questa riflessione nell'omelia della messa pronunciata alla ESPA, azienda di Moconesi specializzata nella realizzazione di trasformatori elettrici. Come in ogni visita nelle realtà produttive del territorio, il vescovo ha avuto l'occasione di incontrare i dipendenti e i titolari della fabbrica, sentire il polso della situazione socio-economica e benedire i locali. Prendendo poi spunto dalla liturgia del giorno e dal brano evangelico dedicato al discorso della montagna, Monsignor Tanasini ha richiamato l'impegno richiesto ad ogni credente, quello a dare luce e gusto al mondo. Un invito ha detto che per i cristiani deve essere motivo di profonda riflessione. Tante volte ci si distacca dal Vangelo perché non si sente il gusto della vita che il Vangelo porta e non lo si sente perché noi cristiani non siamo capaci di farlo sentire questo gusto. Il secondo spunto è scaturito dal commento all'episodio tratto dal Libro dei Re, in cui una vedova divide il suo poco cibo con Elia e fidandosi si accorge che la farina e l'olio che le erano rimasti in realtà non diminuiscono ma restano inalterati. Fiducia dunque e carità, di cui l'invito ad incarnare una delle opere di misericordia, dare da mangiare agli affamati. Viviamo in un mondo che se anche ha difficoltà, e voi siete testimoni delle difficoltà che viviamo ora, tuttavia è sempre più ricco di altri ambienti del nostro mondo e noi tendiamo a chiuderci. Ecco uno dei modi con cui il sale perde il sapore. Noi tendiamo a chiuderci. Abbiamo invece il cuore aperto. Guardiamo a chi sta peggio di noi. Vediamo questo intervento non solo come umanitario, ma come condivisione di carità. Pensiamo a tutti questi e la provvidenza non ci verrà meno. Ora facciamo un passo indietro e torniamo alla celebrazione in occasione della festa del Sacro Cuore. In questa giornata Monsignor Alberto Tanasini si è recato in visita alla Chiesa dei Padri Oblati di via Santa Chiara a Chiavari, il cui carisma è particolarmente legato a questa devozione e ha pronunciato una riflessione che ha messo in luce lo stretto legame tra la devozione al Sacro Cuore di Gesù e l'Anno Santo della Misericordia. Sentiamo. In occasione della festa del Sacro Cuore, Monsignor Alberto Tanasini ha offerto una riflessione dedicata all'amore infinito di Dio, alla sua misericordia, che si esprime in una natura umana, quella di Gesù Cristo. Lo ha fatto celebrando l'Eucaristia nella Chiesa dei Padri Oblati di via Santa Chiara a Chiavari, il cui carisma è particolarmente legato a questa devozione. La festa del Sacro Cuore ci ricorda questo. L'umanità vera del Signore è stata impregnata dell'amore di Dio e da questa umanità sgorgano tutte le grazie che sono frutto dell'amore di Dio. Nell'Omelia il Vescovo ha messo in luce alcuni aspetti della misericordia divina, traendo spunto dalla liturgia del giorno, l'attenzione per ciascuna delle creature a lui affidate singolarmente e soprattutto per chi rischia di smarrirsi. Ecco la gioia di Dio è che colui che sembra perduto, incapace di ritrovare la strada, invece questo rinnovamento lo possa sperimentare. E lo può sperimentare unicamente perché il pastore stesso lo va a cercare e sulla carica sulle spalle la riporta a casa, chiama gli amici e i vicini e dice a loro rallegratevi con me. Ecco rallegratevi con me. La gioia di Dio, la conversione del peccatore, il ritrovare chi sembrava perduto. Tutti abbiamo bisogno dell'amore del Signore, ha aggiunto il Vescovo. La contemplazione del cuore di Gesù nell'anno della misericordia aiuta proprio a riconoscere questo infinito bisogno. Penso che questo sia per noi motivo di gioia, di consolazione. Diventa anche un invito a lasciarci trovare, a lasciarci trovare da questo pastore che ci cerca, da lasciarci raggiungere da questo amore che ci vuole avvolgere. Questo l'invito. Raccogliamolo. L'attività dell'Istituto Gianelli di Chiavari riprenderà regolarmente a settembre. La prosecuzione dell'attività didattica sarà garantita da una cooperativa, la cui costituzione è stata decisa nel corso di una riunione che si è tenuta il 7 giugno, ovvero il giorno il Dies Natalis di Sant'Antonio Maria Gianelli. In questa occasione è stata ufficializzata questa decisione che pone fine ad un momento di grave incertezza che aveva tenuto con il fiato sospeso i genitori dei 250 studenti dell'Istituto. L'Istituto Gianelli di Chiavari non chiude. Il personale, docente non nelle sue regionelline, una trentina di persone in tutto, hanno deciso di costituire una cooperativa che avvierà regolarmente l'attività per l'anno scolastico 2016-2017. La decisione, desiderata da tutti, è scaturita al termine di una lunga riunione alla presenza di tutte le persone interessate, di un esperto di Conf Cooperative e di Don Alberto Gastaldi, responsabile dell'ufficio Scuola della Diocesi inviato dal Vescovo quale segno di sostegno e vicinanza. Ed è arrivata il 7 giugno Dies Natalis di Sant'Antonio Maria Gianelli. A settembre dunque si riparte con l'offerta formativa attuale, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo scientifico, sezione sportiva. Siamo giunti alla conclusione che era il desiderio davvero di tutti gli insegnanti, delle suore prima di tutto e chiaramente anche di tutte le famiglie, che il nostro istituto continuerà la sua attività, non chiuderà, quindi anche l'anno prossimo e gli anni futuri continueremo la nostra attività didattica con le nostre proposte educative e formative. Abbiamo scelto, dopo un'attenta riflessione, di creare una cooperativa, tutti i dipendenti insieme alle suore, perché si possa proseguire questa esperienza. Ricordiamo allora qual è l'offerta formativa che ci sarà anche nell'anno scolastico 2016-2017. Sì, noi abbiamo la scuola dell'infanzia, quindi i bambini dalla sezione primavera fino al termine della scuola dell'infanzia, poi tutta la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e poi l'offerta liceale con il liceo scientifico sezione sportiva. Di quanti ragazzi grossomodo stiamo parlando? Stiamo parlando di circa 250 ragazzi, dai bimbi appunto fino ai ragazzi più grandi. L'anno prossimo ritorneremo ad avere l'esame di stato finale e quindi, insomma, un'eredità importante che noi appunto siamo davvero decisi a portare avanti e a proseguire nel migliore dei modi. Forse da parte vostra c'è anche un po' l'orgoglio di raccogliere questa realtà educativa così importante anche per la storia di Chiavari. Sì, sicuramente. Qualche anno fa abbiamo celebrato i cento anni della fondazione, proprio della costruzione dell'istituto e quindi, come dire, il desiderio è proprio quello di portare avanti questa tradizione. Sicuramente, come abbiamo anche sottolineato nel comunicato stampa che abbiamo inviato ai giornali e prima di tutto alle famiglie di tutti i nostri alunni, tramite i rappresentanti di classe e di istituto, proprio il carisma del Gianelli. Quindi l'idea di fare una scuola che sia una scuola aperta a tutti, dove i ragazzi possano crescere, possano formarsi davvero nella loro persona a 360 gradi. e quindi proprio il desiderio di portarli, come dire, da piccoli fino ad arrivare alla maggior età, dove cominciano ad affacciarsi davvero alla vita. Questa mattina tutti gli studenti, assieme agli insegnanti, hanno preso parte alla Santa Messa di fine anno nella parrocchia di San Giovanni Battista, concelebrata dai sacerdoti che insegnano all'istituto. I soci della cooperativa raccolgono un'eredità importante, facendo proprio lo stile educativo di una istituzione che ha caratterizzato la storia di Chiavari per oltre un secolo. Quante persone entreranno a far parte della cooperativa? Ma ad oggi i numeri si tratta di una trentina di persone, nel senso il personale che in questo momento è in forze nell'istituto. Ecco, quindi il personale sia docente che non docente, il personale amministrativo, quindi di segreteria, il personale ATA, tutto. E anche le suore che continueranno a svolgere il loro servizio educativo e formativo all'interno della scuola e faranno parte anche della cooperativa stessa. I genitori cosa vi hanno detto? Ma già ieri sera ho ricevuto delle mail di riscontro e anche stamattina in cui i genitori confermano la loro adesione al progetto della scuola e anche ci sostengono in questa cosa. Per noi davvero è una cosa importante sapere che non camminiamo da soli, ma che camminiamo con le famiglie tutte entere, perché per noi, come dire, quando un ragazzo, un bimbo, entra qui a scuola da noi, non significa quel bimbo lì, ma significa davvero accogliere tutta la sua famiglia. Manca ormai davvero poco al Giubileo dello Sportivo, l'iniziativa che si svolgerà a livello regionale a Rapallo domenica prossima, con il corteo delle società sportive in mattinata e poi nel corso della giornata l'esibizione delle varie società sportive che hanno aderito alla manifestazione e nel pomeriggio, a partire dalle 18, ai giardini di piazza 4 novembre, il concerto e poi il momento della premiazione di tutti gli atleti. Ebbene, per questa iniziativa c'è stato un momento preliminare di presentazione delle varie società che hanno aderito alla manifestazione, della macchina organizzativa complessa che c'è dietro a questo evento, presentazione che è stata effettuata a Rapallo e alla presenza del Vescovo Diocesano. Vediamo. Presentazione della giornata del Giubileo dello Sportivo di domenica prossima, è quasi tutto pronto? Direi di sì, siamo al buonissimo punto. È già tutto ben organizzato, direi, e l'impegno è soprattutto stato veramente molto, molto, molto buono. Il CSI è proprio in campo, totalmente? Direi assolutamente di sì. Ci siamo impegnati per questo, come dicevo, e la speranza è solamente... L'unica cosa che ci spaventa un pochino è il tempo, il tempo atmosferico. Il resto invece dovrebbe andare più che bene. Il nostro Vescovo è stato presente questa sera alla presentazione della giornata a tutte le società e ha portato la gioia di esserci e anche di aver partecipato con il suo pensiero a questa giornata. Oltretutto ha accolto in pieno il senso di questa manifestazione che noi abbiamo accolto pienamente perché appena ci è stato detto che si faceva questa manifestazione denominata il Giubileo dello Sportivo non ci abbiamo pensato un attimo per poter partecipare. Non solo, ma ho chiesto degli atleti di Genova e vicini, ho detto guarda c'è la manifestazione chiamata il Giubileo dello Sportivo, verreste? Loro subito si sono aperti e hanno detto sì, veniamo. Adesso qualche d'uno potrà venire, qualche d'uno magari per impegni sportivi non verrà, però la prima cosa che ci hanno detto tutti è stata sì, veniamo perché è quello che faceva piacere a loro. Il nome secondo me è stato l'arma che ha permesso, l'arma anche se detta così, è il chiavistello che ha permesso di rendere già permeante la cosa. Tra l'altro tante società in campo, la scherma è un pilastro di rappallo sportivo? Direi di sì perché i risultati che otteniamo sono notevoli. Purtroppo qualche atleta non sarà presente neanche alla premiazione perché in contemporanea ci sono i campionati italiani dove noi partecipiamo e siamo con degli atleti che hanno speranza di medaglie, quindi non potranno partecipare. Nel frattempo parteciperanno altri atleti, magari di età più piccola, ma con dei risultati alle spalle già notevoli. Ci sarà anche un piccolo disagio per la popolazione, per i turisti, c'è anche la manifestazione del corteo che partirà alle 9, poi tutta piazza a 4 novembre occupata, ma insomma probabilmente vedendo tanti colori sportivi alla fine poi tutti avranno un minimo di pazienza, cosa diciamo? Scommetto che mettendo sui piatti della bilancia i disagi e invece la gioia di poter vedere i ragazzi della Diocesi, i ragazzi di Tiguglio impegnati in questa manifestazione, alla fine saranno sicuramente più che contenti e soddisfatti della riuscita della manifestazione. La Cione Basket e Rappallo festeggia in qualche modo anche questa bella giornata sportiva del Giubileo Rappallo con la promozione. Certo, sì sì, anche con questo sicuramente hanno fatto un buon risultato quest'anno, dai. Era in qualche modo previsto? Ma insomma all'inizio non mi pare, però poi con l'andare del tempo, delle partite una dopo l'altra si è cominciato ad avere qualche speranza e ce l'hanno fatta. Laura, un pochino questa organizzazione, il tuo impegno per domenica prossima? Ma cercheremo soprattutto di appunto creare lo sport come sport realmente, quindi un senso di divertimento, collaborazione, gioia nel gioco, quindi unendo i vari gruppi che vengono dalle varie società sportive, squadre scelte a selezione di gruppetti e quindi far vincere proprio lo sport, più che non una squadra rispetto a un'altra. E poi con i più piccoli o comunque per chi vuole anche partecipare, aderire a delle prove, alla possibilità così di vivere ogni tipologia di sport, provare, vedere se piace, questo genere di... Sono invitati gli appassionati ma anche non solo, tutti così possono anche capire e magari riuscire a cogliere qualche piacere di qualche sport. Certo, la cosa importante secondo me è proprio questa, la bellezza di non creare agonismo non solo all'interno di uno sport, ma anche tra i vari sport, una sorta di collaborazione proprio perché ciascuno possa scegliere la strada che più fa per lui, che più gli piace, che più lo realizza, ecco, perché si possa sentire davvero una cosa, una parte importante della propria vita anche come nella parte sportiva. Il Giubileo dello Sportivo ha coinvolto tutte le società, almeno questo era l'intento, in particolar modo la Palavolo di Santa Maria. Sì, effettivamente la Polisportiva è stata impegnata e coinvolta molto, ma con piacere, infatti i ragazzi, i nostri ragazzi si sono dati da fare, si stanno andando a fare, andranno a preparare i campi, hanno già predisposto molte cose, per cui saranno proprio con piacere. La questione è proprio stata interessante, il riscontro che abbiamo avuto dai nostri ragazzi che appunto interpellati hanno subito appunto accettato di partecipare appunto all'organizzazione di questo evento. Veramente importante per la Palavolo, proprio per il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sportive, organizzazioni di volontariato, piuttosto che... Per cui proprio questa commistione di personaggi, diciamo, di Rappallo, proprio per Rappallo, con Rappallo che partecipa. E poi voi avevate Eros, la macchina dell'organizzazione? Eros, una macchina da guerra, veramente, che proprio mille ne fa, centomila ne pensa, sempre attivo, sempre sul pezzo, diciamo, quindi noi con lui abbiamo veramente una garanzia e anche quindi l'organizzazione, già dall'anno scorso presente, si riconferma quest'anno veramente una qualità di personaggio notevole che siamo contenti di annoverare tra le nostre fila, assolutamente. A Chiavari, nel Salone di Casa Marchesani e nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto si sono svolti i saggi di pianoforte e di organo degli allievi dell'Istituto Diocesano di Musica, Monsignor GB Campodonico. è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività di quest'anno. I saggi di giugno concludono l'anno di corsi. Qual è stato il bilancio di questo percorso e i frutti che sono emersi? Ma l'anno è sempre ricco di bellezza, direi, perché i ragazzi si accostano attraverso lo studio sia del pianoforte che dell'organo alla bella musica, alla musica che ha avuto nel corso dei secoli un grande valore e che oggi lo è tuttora. È sempre un valore che arricchisce la persona, non soltanto chi ascolta musica ma anche chi la esegue, chi la studia. Quali sono stati gli allievi di quest'anno? E soprattutto con quali strumenti si sono cimentati? Dunque, abbiamo avuto Luca, Letizia, Sergio, Emma, Paolo, Simone, Elisabetta che hanno lavorato al pianoforte e poi abbiamo avuto Nicolò, Elisabetta e Paolo che invece si sono dedicati all'organo. In entrambi i casi quali sono stati i pezzi principali che hanno provato? Diciamo che il repertorio, come sempre, è quello che va dalla grande figura di Johann Sebastian Bach sia per il pianoforte che per l'organo fino agli autori del Novecento. Al saggio di pianoforte viene proposto anche un brano di Enio Morricone quindi ricordiamo anche questo compositore, questa gloria nazionale, anche noi nel nostro piccolo. Arrivati a giugno si comincia a guardare al futuro, in particolar modo ad una data particolare. Sì, l'istituto sta per varcare il traguardo a fatica dei 50 anni di attività e quindi stiamo studiando insieme una serie di iniziative che vorranno un po' riproporre proprio l'importanza, il valore dell'istituto non solo come scuola di musica vera e propria ma come luogo di preparazione per le persone che poi intendano svolgere il loro ministero nelle parrocchie. Questo d'altronde è proprio la motivazione per la quale l'istituto appunto 50 anni fa è stato creato, è stato voluto. Mi piace dire che arrivando a questo importante traguardo è nata durante quest'anno anche un'importante collaborazione col coro della cattedrale e mi sembra bello che queste realtà tutte dedicate alla funzione della liturgia all'animazione della liturgia collaborino fra di loro mi sembra una cosa molto molto importante che sicuramente non lascerà molto frutto. Ci lavorerete durante l'estate per partire poi con il nuovo anno? Sì, sì, sicuramente abbiamo già iniziato a pensare a un calendario di massima di alcune manifestazioni e nel contempo stiamo anche rivedendo i programmi anche per essere assolutamente in linea con quelle che sono le nuove disposizioni dei corsi presso i conservatori. Il nostro istituto non è un conservatorio però può preparare gli alunni ai corsi pre-accademici. Ci sono circa 20.000 persone iscritte al Giubileo delle persone malate e disabili che si tiene in questi giorni a Roma, in città del Vaticano. In particolare per la Santa Messa presieduta da Papa Francesco che si tiene nella mattinata di domenica proprio in Piazza San Pietro sono stati stampati 50.000 biglietti. Nella nostra diocesi è stata pensata un'iniziativa che permetterà anche alle persone che hanno difficoltà motorie di poter partecipare in maniera comunitaria a questo evento ed in particolare sarà posizionato un maxischermo all'interno della Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari proprio domenica mattina. Il collegamento con Piazza San Pietro avrà inizio alle 10 e tutti coloro che lo desiderano potranno partecipare alla Santa Messa. Durante questa celebrazione poi sarà anche distribuita la comunione ai presenti da parte di alcuni sacerdoti che hanno aderito a questa iniziativa. L'organizzazione è a cura del Consiglio diocesano per la pastorale della salute e c'è anche la possibilità di pranzare insieme per le persone che vorranno partecipare a questo evento. occorre telefonare allo 0185 30 88 15 Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa al nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per aver guardato il nostro canale